buongiorno e bentrovati a tutti oggi vi illustro la mia riparazione di un sensore di presenza un sensore pir infrarossi che rileva il calore umano e fa scattare una lampada un dispositivo questo sensore infrarossi funziona a 12 volt quindi il rosso è il positivo e il blu è il negativo e il marrone è l'uscita commutata di 12 volt per provare il sensore collego oltre all'alimentatore anche una spia a led funzionante a 12 volt con un'opportuna resistenza e vado a dare tensione a 12 volt al dispositivo come potete vedere questo led rosso rimane costantemente acceso e questo è il guasto lamentato dal proprietario cioè il fatto che il dispositivo qualunque sia il settaggio della sensibilità del timer o della luce l'utilizzatore rimane sempre acceso ma prima di cimentarci in questa riparazione se vi piacciono i miei video non dimenticate di mettere like iscrivervi al canale grazie non solo rimane acceso il led ma presenta una sorta di periodico spegnimento che appunto mi fa pensare a un malfunzionamento del sistema di temporizzazione andiamo ad aprire il nostro dispositivo e vediamo all'interno i tre perni che comandano 3 trimmer 3 potenziometri per la regolazione della sensibilità del tempo e della luminosità crepuscolare in primo piano vedete il sensore peer con le sue guide d'onda il sensore della luminosità a sinistra il chip di controllo a destra quest'ultimo è un lm 324 composto al suo interno da quattro amplificatori operazionali tiro fuori dall'involucro entrambe le due schede quella del circuito di controllo e quella del relais che comanda il utilizzatore esterno originariamente questo circuito funzionava a 220 volte poi io l'ho modificato per farlo funzionare a 12 volte per essere utilizzato con una batteria 12 volte questo è lo schema elettrico tutta la parte in alto a sinistra è la parte di alimentazione che trasforma la 220 in una tensione continua di 8 volte grazie allo stabilizzatore di tensione 78 l 0 8 su questo circuito in passato io ho modificato la parte di alimentazione a 220 volte per innestare direttamente la 12 volte all'ingresso del 78 l 0 8 e ho trasformato il sensore in un sensore a 12 volte vediamo bene il funzionamento abbiamo un sensore infrarosso per b203 c che ogni qualvolta capta del calore umano lo rileva e lo trasforma in una tensione ai suoi capi questa debolissima tensione viene amplificata dal operazionale numero 4 il quale poi passa questa tensione ad un secondo operazionale l'operazionale 3 che amplifica con un trimmer con un potenziometro è possibile variare la sensibilità cioè il grado di amplificazione di questa debole tensione rivelata questa tensione viene passata all'operazionale numero 2 che l'amplifica ulteriormente e la passa all'operazionale 1 che gestisce la fase del timing del tempo di spegnimento pratica la tensione amplificata viene applicata al piedino 3 di questo operazionale dal diodo d3 questa tensione immediatamente accumulata dal condensatore c14 da 220 microfarad viene lentamente nel tempo scaricata dal trimmer esterno con cui si può variare il tempo di accensione sull'altro piedino negativo piedino 2 dell'operazionale invece collegata una tensione fissa data dal partitore presente tra positivo 8 volte e massa che fa sì che ci sia una tensione di riferimento di circa un decimo dato dal rapporto tra le resistenze da 100 kohm e 10 kohm presenti a sinistra quindi una tensione di circa 0,8 volt ora finché la tensione sul piedino più è maggiore di quella presente sul piedino meno cioè è superiore a 0,8 volt l'uscita di questo operazionale è mantenuta al livello alto e quindi il transistor viene eccitato e il relè di conseguenza collegherà il carico man mano che questa tensione sul piedino 3 viene scaricata dalla rete della resistenza di scaricamento quindi anche dal potenziometro regolabile l'operazionale cambierà il suo stato da positivo a negativo cioè a 0 e in questo modo il relè verrà diseccitato trascorso il tempo impostato dall'utente la funzione crepuscolare invece viene realizzata partendo dal potenziometro VR2 collegato in serie alla fotoresistenza variando questo potenziometro andiamo a cambiare la polarizzazione del transistor VT2 e allora quando la luce presente aumenterà la tensione presente alla base di questo transistor esso entrerà in conduzione e metterà a massa l'eventuale comando positivo dato dall'amplificatore operazionale del tempo annullando di fatto la funzione di accensione una volta capito tutto il funzionamento del circuito ritorniamo all'atto pratico a capire il nostro malfunzionamento in questi casi la prima cosa da fare è controllare e osservare tutti i componenti elettronici verificare se ci sono condensatori in perdita potenziometri ossidati nel mio caso decido anche di muovere un po' i potenziomeri regolare le caratteristiche ma non cambia nulla vado a fare una pulizia con del VT40 su questi potenziometri perché magari è presente polvere o ossido e osservando anche il circuito per cercare saldature fredde o magari eventuali problemi di contatti intermittenti inizio a misurare la tensione presente sul transistor di eccitazione del relais che è sempre positiva questa tensione come abbiamo visto dipende e dal circuito del crepuscolare e dal circuito del timing andando avanti nell'analisi delle tensioni la situazione si complica ulteriormente il circuito inizia anche ad avere un comportamento aleatorio con il led che si accende semplicemente battendo sul circuito stampato del del relais e quindi penso di provare a sostituire il relais perché magari potrebbe essere lui difettoso con la solita pistola dissaldante ad aria aspirata imposto la temperatura a 400 gradi inizio ad aspirare dissaldare i piedini 5 i piedini del relais 12 volte per sostituirlo con uno nuovo questa operazione sebbene apparentemente inizialmente sembra risolvere il problema dell'attivazione casuale del relais in realtà non sortisce l'effetto sperato perché il problema di temporizzazione e di spegnimento temporizzato continua ad esserci e quindi dirigo le mie attenzioni su questo condensatore che è il condensatore del timing e del tempo decido immediatamente di sostituirlo con un altro ma le cose non cambiano decido di mettere sotto osservazione l'attenzione presente su questo piedino 3 che nel momento in cui il led si spegne improvvisamente viene rialzata all'improvviso da una sorta di spike di picco che sembra quasi provenire dallo spegnimento del relais a questo punto ho sposto la mia attenzione proprio sul relais e sul diodo 1N4148 deputato a eliminare i picchi di tensione dal transistor decido di dissaldarlo dal circuito stampato per misurare effettivamente la sua giunzione già che la bobina del relais in parallelo non mi consente di verificare questo componente una volta dissaldato e una volta provato con il tester sulla portata di odi il componente presenta la giunzione aperta quindi non è più in grado di svolgere la sua funzione lo vado a sostituire con un nuovo 1N4148 previa verifica della sua giunzione funzionante e fatte tutte le dovute saldatore mi rendo conto che comunque la situazione non è cambiata tutto come prima il diodo continua a spegnersi per poi riaccendersi immediatamente in una sorta di auto oscillazione continuo a monitorare la tensione sul piedino 3 dell'integrato e comincio a pensare che sia proprio lui il responsabile perché difettoso nel dubbio avendone uno a disposizione decido di cambiarlo per sostituire l'integrato di saldo l'originario e al suo posto metto uno zoccolo sul quale poi inserirò il nuovo integrato LM324 in modo tale che se poi si rompe anche il secondo potrò mettercene un altro fatta questa sostituzione vado a misurare la tensione presente sui piedino dell'integrato che scende correttamente senza risalire e infatti adesso il led si spegne definitivamente una volta trascorso il tempo impostato con il trimmer e non solo riavvicinando la mano al sensore il led si riaccende per poi spegnersi di nuovo definitivamente e con questo mi posso ritenere soddisfatto la mia riparazione è riuscita perfettamente chiaramente non è una riparazione economica ma è soltanto per dimostrarvi un po come funzionano i circuiti elettronici spero di avervi trasferito la mia passione e spero anche che questo video vi sia piaciuto a me non resta che invitarvi a mettere like e iscrivervi al canale per supportarmi e nel frattempo che rimonto il tutto ovviamente vi do appuntamento alla prossima volta grazie e un abbraccio a tutti